La storia che vi racconterò oggi inizia a Fiumicino, nel luglio 2021, quando Ahmed, ragazzo di 28 anni di origini pakistane, viene arrestato con la grave accusa di violenza sessuale su minori. Da subito si dichiara innocente, ma le prove contro di lui sono concrete, così il giudice convalida l'arresto nel carcere romano di Regina Celi. Da quel momento Ahmed comincia uno sciopero della fame e della sete, e dopodiché cade in una sorta di stato comatoso. Per giorni, settimane e mesi rimane sdraiato immobile nella sua cella, con gli occhi chiusi, come se dormisse. Vengono allora svolti diversi esami medici, ma nessuno di questi svela alcun tipo di problematica neuroorganica. In realtà il giovane non si trova nemmeno nella fase REM, ovvero quella del sonno profondo, e alcuni indicatori psicofisici suggeriscono come il giovane in realtà sia presente e in grado di capire cosa gli sta succedendo attorno. Da quel momento Ahmed, all'interno del carcere, inizia ad essere definito il simulatore. In sostanza sono tutti convinti che stia fingendo di dormire nella disperata speranza di sottrarsi al processo, che comunque va avanti. Nonostante infatti l'avvocato del giovane abbia chiesto più volte di sospendere le procedure in attesa che il proprio assistito recuperi uno stato cosciente che gli permetta appunto di partecipare alle udienze, queste proseguono comunque e l'imputato viene portato in barella all'interno dell'aula di tribunale o collegato in videoconferenza. Il tutto sempre in uno stato di apparente sonno. Questo perché il giudice lo ha sempre ritenuto capace di intendere di volere e quindi non ha mai ravvisato le condizioni per sospendere il processo. In questo caso è intervenuta anche l'Associazione Antigone, che è una delle associazioni più importanti d'Italia e che si occupa proprio della tutela dei diritti dei detenuti. Viene permesso a un membro del loro staff di entrare in carcere e di incontrare Ahmed ed effettivamente anche in questo caso Ahmed rimane completamente inerme nel proprio letto. Dopo mesi di apparente coma ovviamente l'uomo appare magro e debilitato, vive con il pannolone e attaccato a un catetere. Il cibo e l'acqua gli vengono inseriti manualmente nella bocca e lui li deglutisce in una maniera che viene definita meccanica. Anche il compagno di Cella dichiara di non averlo mai visto né di notte né di giorno con gli occhi aperti. Comunque dopo l'intervento dell'Associazione Antigone, Ahmed viene trasferito al carcere di Secondigliano, a Napoli, che è più attrezzato per le esigenze del ragazzo. Ma le sue condizioni fisiche peggiorano ulteriormente e dal carcere viene trasferito all'ospedale del mare in seguito a un blocco intestinale. Da lì viene poi trasferito al Cardarelli, dove viene curato con degli antibiotici, perché nel frattempo si sono create delle infezioni nel suo corpo a causa dell'inattività. Qui al Cardarelli però comincia a manifestare di nuovo, dopo tanto tempo, dei chiari segni di orientamento nello spazio e nel tempo. E poi finalmente, l'11 dicembre scorso, ben 16 mesi dopo l'inizio dell'apparente coma, si sveglia. L'avvocato grida al miracolo e Ahmed sostiene di non ricordarsi nulla di quello che è successo. E nonostante il parere negativo dei medici, decide di tornare in carcere. Dunque la domanda qui è, ma veramente Ahmed è stato in grado di fingere per tutto questo tempo? Ebbene, durante il processo il giudice ha disposto due perizie, una psichiatrica e una di medicina legale, ed entrambe sono giunte alla medesima conclusione. Ahmed è affetto dalla sindrome di Ganser. Definita anche pseudodemenza isterica, tale sindrome consiste sostanzialmente nella simulazione di determinati sintomi psicotici con l'obiettivo di risultare infermo mentalmente e trarre dei benefici da ciò. C'è anche chi la definisce psicosi carceraria, perché appunto si presenta spesso nei penitenziari. Ciò che succede però nella sindrome di Ganser è che i sintomi psicotici, inizialmente dissimulati, rischiano col tempo di diventare reali. In altri termini il simulatore si autosuggestionerebbe a tal punto da finire veramente per sviluppare una psicopatologia. Salvo però poi a un certo punto mostrare una rapida, completa e improvvisa remissione totale della sintomatologia. La letteratura su questa sindrome risale addirittura al fine dell'Ottocento e in realtà ancora oggi rimane una sindrome controversa che non è presente nel DSM attuale. La sindrome prende il nome dello psichiatra tedesco Sigber Ganser, che nel 1987 descreisse in uno studio l'inusuale condizione, la curiosa condizione di tre detenuti che avevano sviluppato dei gravi sintomi psicotici ma estremamente transitori. Amnesie, allucinazioni, alterazioni percettive e risposte sconclusionate. Quest'ultimo aspetto in particolare è stato identificato come uno dei più caratterizzanti della sindrome. Tanto che alcuni chiamano la sindrome di Ganser come la sindrome delle risposte approssimative. Perché soggetti che ne sono affetti, pur dando delle risposte scorrette alle domande, manifestano tutta una serie di informazioni che fanno capire come quelle domande in realtà poi siano state realmente comprese. Attenzione, la sindrome di Ganser non è da confondere con la catatonia, un disturbo psichiatrico presente nel DSM e collegato alla schizofrenia. In questo caso il soggetto che ne soffre tende ad assumere in maniera prolungata delle posture plastiche e inusuali, con episodi anche di catalessia, ovvero di rigidità estrema e insensibilità nelle parti periferiche del corpo. Sebbene tali disturbi abbiano principalmente e più frequentemente una causa organica, non è comunque da escludere che possano originare anche da condizioni psiconervose, esterne dunque dai quadri schizofrenici. Quella di Amede invece potrebbe rientrare nella casistica della cosiddetta sindrome della rassegnazione, una grave condizione clinica che emerge solitamente come conseguenza di un disturbo post-traumatico e che porta il soggetto a una sorta di abbandono totale del proprio corpo e della propria mente. Anche in questo caso il soggetto sembra apparentemente dormire, in uno stato di semicoscienza prolungata. Di recente si è molto parlato di questa sindrome in Svezia, dopo che un gruppo di bambini, circa un centinaio, ha cominciato a manifestare tale sintomatologia in seguito al rifiuto del permesso di soggiorno e della conseguente possibilità di accedere agli asili del paese. La situazione, anche in questo caso, era talmente grave che alcuni genitori hanno dovuto chiedere di alimentare i propri figli tramite un sondino. E se la persona che ne soffre non dovesse ricevere appunto questo tipo di supporto, l'alimentazione esterna, cosa succederebbe? Si sveglierebbe? Purtroppo la risposta potrebbe essere no, perché, per esempio, quello che è successo, purtroppo, a diversi detenuti nei campi di concentramento nazisti. Morti di fame e di sete, proprio in seguito a uno stato di immobilità prolungata, riconducibile alla sindrome da rassegnazione. In generale, la dinamica clinica della sindrome di Ganser e quella della sindrome da rassegnazione sembra essere sovrapponibile a quella di alcuni disturbi dissociativi. In altre parole, l'agente stressante esterno è percepito come talmente forte e talmente inaffrontabile che la mente attiva un meccanismo difensivo disfunzionale che porta a un distacco dalla realtà. Nel DSM 4, quindi nella versione precedente al DSM attuale, infatti, la sindrome di Ganser era inserita all'interno dei disturbi dissociativi senza specificazione. Anche se poi, appunto, per la sua natura controversa, la sindrome è stata eliminata nella versione 5 del DSM, quella più aggiornata. In ogni caso, quale che sia la definizione diagnostica di quello che è successo ad Ahmed, io credo che non si possa ridurre il tutto a una banale e semplice simulazione. Per quanto sia potenzialmente iniziata come un qualcosa di controllato e conscio, ha sicuramente preso una deriva psicopatologica, che avrebbe richiesto fin da subito un adeguato supporto medico e psichiatrico. Probabilmente un ruolo lo ha giocato anche la bassa empatia, la bassa sensibilità che si è innescata su questo essere umano, perché stiamo parlando innanzitutto di un uomo straniero che ha commesso un grave crimine. A ciò si aggiunge anche la scarsa sensibilità sulla malattia mentale, che spesso viene identificata e percepita come un qualcosa di secondario rispetto a una malattia organica. Sono infatti convinto che si potesse intervenire prima e meglio, senza aspettare che passassero diversi mesi. Ovviamente la mia è solo un'ipotesi, perché non essendomi occupato direttamente del caso, posso fare solo delle speculazioni, però dalle informazioni che ho raccolto, questa è l'idea che mi sono fatto. Fatemi sapere ovviamente anche cosa ne pensate voi nei commenti, se conoscevate già questa sindrome o meno. Prima di concludere vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro potete iscrivervi a Patreon e usufruire anche dei contenuti esclusivi che sto pubblicando ormai da mesi su quella piattaforma. In particolare dei podcast di psicologia e di crescita personale, che spero vi possano essere utili. Oltre a questo c'è anche la possibilità di fare bisettimanalmente delle chiamate di gruppo con gli altri Patreon e con me ovviamente, dove discutere temi di attualità e anche in questo caso di psicologia. Sono momenti utili che possono essere anche stimolanti, quindi valutatelo. Grazie ancora di tutto, a presto e alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.